Mercoledì 10 marzo 2021, scuola di preghiera, istruzioni sull'esame di coscienza. L'esame di coscienza nella spiritualità ignaziana è per la compagnia di Gesù a un posto fondamentale. Tanto che nasce dagli esercizi, fa parte della prima settimana, è scritto nel libretto, e viene raccomandato da Sant'Ignazio come un esercizio quotidiano. Diciamo che nello stato più ottimale ogni compagno di Gesù deve dedicare alla preghiera un'ora al giorno e all'esame di coscienza 20 minuti al giorno. E Sant'Ignazio, noi sappiamo che la compagnia di Gesù è un ordine apostolico, e che i Gesù vengono ancora oggi sempre e ancora di più forse ai tempi di Sant'Ignazio mandati in condizioni estreme, spesso, molto spesso, da soli, quindi Brasile, Latino America, Giappone, India, Cina, e poi in Africa e poi in Europa del Nord, quando l'Europa del Nord era attraversata da guerre forti per l'uscisma della riforma protestante, quindi delicatissime, oppure al concilio di Trento, e Ignazio dice, in ogni caso, se proprio non riuscite a dedicare un'ora della vostra giornata alla preghiera, accertatemi di fare sempre l'esame di coscienza. In che cosa consiste? Poi quando naturalmente la compagnia ha ricevuto tanti novizi e allo stesso modo, e così come è diventato impossibile dare gli esercizi individualmente, un po' come si torna a fare oggi, e come faceva Ignazio e come facevano i primi gesuiti, il numero altissimo di novizi e il numero altissimo di persone che facevano gli esercizi ha come fatto sì che mano a mano gli esercizi fossero dati sempre di più in una forma predicata, e allo stesso modo che l'esame di coscienza diventasse una sorta di pratica molto schematica, e forse sull'onda della controriforma anche con dei toni accesamente penitenziali, quindi, non so nella vostra esperienza, ma insomma fare l'esame di coscienza è la minaccia che si fa a qualcuno quando si ritiene che abbia fatto un errore forte anche in una relazione, no? C'è sempre un genitore severo o un amico che si sente ferito che ci invita a fare l'esame di coscienza. Negli ultimi anni soprattutto ha cambiato forma, si è capito che in verità Sant'Ignazio non richiedesse soprattutto ai cristiani maturi un esercizio, come dire, un'analisi puntigliosa dei propri difetti, no? perché questo potrebbe avere l'effetto non solo di intimorire la persona, no? E di metterla in una posizione, come dire, metterla un po' all'angolo, ma anche di allontanarla, rendere più difficile la relazione con Dio, e in non ultimo in una posizione centrata su di sé, no? La persona che ha sbagliato innanzitutto ha sbagliato, ma poi è anche sempre se stesso. Allora, in quale relazione si sta con Gesù e con Dio? Allora, un nuovo modo di fare l'esame di coscienza innanzitutto parte dalla constatazione che nel presente, quindi come accade al termine della preghiera, nel colloquio, l'esame di coscienza innanzitutto è un dialogo con il Signore e ha la forma di un colloquio. Poi è un atto di gratitudine, quindi ci si raccoglie, si trova un momento per ringraziare il Signore della giornata che è trascorsa. Di solito si fa la sera, diciamo, per osservare il corso della giornata. E quindi innanzitutto si ringrazia. E poi si osserva insieme all'amico che è l'amico del colloquio, si osserva la giornata trascorsa. Quanto più saremo bravi, diciamo, bravi, insomma, nell'essere entrati profondamente nel brano evangelico con tutte le nostre emozioni e aver vissuto l'esperienza che ci viene proposta dai Vangeli per quel giorno o nel percorso di esercizi che stiamo seguendo, tanto meglio sapremo individuare nella nostra giornata, riguardando a posteriori, le risonanze che il brano evangelico, alcune parti del brano, hanno con alcuni eventi della nostra giornata. E semplifica il farsi, appunto, delle domande che sono di per sé lontanissime dallo schema di cui si parlava prima. Quindi riguardiamo la nostra giornata e ci chiediamo, in uno spirito di generale gratitudine, entriamo nel particolare ora, di che cosa sono più grata oggi? E poi lasciamo del tempo perché questa memoria emerga. E poi ci chiediamo, di che cosa sono meno grato oggi? E passiamo in rassegna, e così passiamo in rassegna la nostra giornata. Quando ho ricevuto più amore oggi? E quando ho ricevuto meno amore oggi? Quando mi sono sentito più vivo? Quando mi sono sentita meno viva? Quando sono stato più felice? E quando sono stato meno felice? Qual è stato il momento più alto della giornata? E qual è stato il momento più basso della giornata? Quando ho sentito un forte senso di appartenenza? E quando ho sentito un forte senso di non appartenenza? C'è un altro passo ancora che se ci inoltriamo, quanto più ci inoltriamo all'interno della spiritualità ignaziana, tanto meglio siamo in grado di cogliere. Ed è che queste stesse frasi, o altre che possiamo trovare magari più affine a noi, dove il soggetto sono comunque io, quindi io sono colui che sente gioia, sente gratitudine, sente appartenenza, o il suo contrario, è comunque un soggetto, il soggetto sono sempre io. Il modo oltre come nell'affidarsi alla contemplazione è quello di chiedere la grazia che sia Dio, che sia Gesù a evocare e a portarmi alla memoria, e a portare alla mia memoria i momenti più alti e più bassi, più facili, e più difficili della giornata. Non è azione mia, è azione di grazia, si sta rileggendo l'esperienza di una giornata attraverso gli occhi del Signore per noi. e questo fa sì che di nuovo in un modo molto simile al colloquio e di nuovo in un modo molto veloce, nel colloquio poco a poco impareremo, stiamo imparando a fare domande brevi, semplici, per cui se sentiamo la risposta siamo anche più sicuri che la risposta non è frutto della nostra elucubrazione, della nostra fantasia è secca e netta. anche in questo caso se se l'iniziativa parte da Gesù e non da noi abbiamo anche una lettura, ci si presentano delle situazioni che magari noi leggeremmo come negative, ma che in realtà sono positive per la nostra crescita. Magari sono dolorose ma sono comunque positive. Per noi avrebbero un segno negativo. Per Gesù nel momento in cui ce le fa rileggere hanno invece un segno positivo. Non tutte. Quindi ci troviamo consolazione in Gesù per le ferite che davvero sono ferite ma troviamo anche il conforto di sapere e la spiegazione di intuire come mai certe occasioni all'apparenza negativi ci sono utili o sono utili alle persone intorno a noi. E in che modo? Questo di nuovo. Quindi l'insieme del percorso dell'esame di coscienza nel quale e tramite il quale forse forse riusciremo ad abbandonare certi difetti cronici ma anche soprattutto perché ce li ha fatti vedere Gesù non solo perché la società o l'ambiente ci suggeriscono che siano negativi per noi. Si di nuovo si descrive si delinea si può essere tracciato un percorso di relazione fra noi e Gesù che attraversa in filigrana tutto il nostro vivere. I momenti quando si fa questo esame di coscienza quindi una tranche diciamo un un segmento di esame di coscienza è una giornata ma può anche essere un mese o può anche essere l'anno che è trascorso o può anche essere un periodo che ci vede in transizione verso qualcosa di nuovo che vogliamo concludere e che vogliamo imparare a capire con gli occhi di Gesù oltre che con i nostri grazie